Come ti chiami? Che cavolo vuoi ancora? Conoscerti, no? Chiedile se l'è già venuto il ciclo. Ah, ma lei ho solo chiesto come si chiama. Mia. Ehi, ferme! Correte lì. Ciao! Ehi, ciao! No, Gianna! Voglio provare. Perché non c'è neanche una tua foto in cui sei incinta di me? E' che è tutto diverso. Faccio cose strane che non vorrei fare. Va fuori dalla mia casa! E questo è il modo di parlare. Ho detto fuori! Vattene! Sai cosa sarebbe bello adesso? Che tutto questo preciso momento non finisse mai e duresse per sempre. Cazzo, ma che cos'è? Va via! Va via! Cazzo, ma che cos'è?